Eh sì, un giovanissimo. Viscardi è entrato dopo Carfora in un momento sicuramente difficile della gara perché al di là del vantaggio si stava soffrendo. Cosa ti ha chiesto Gaetano Oteri? Il mister prima di tutto non mi aspettavo che mi facesse entrare in un momento così delicato della partita e lo ringrazio. Ovviamente la cosa principale era quella di portare a casa il risultato. Ci siamo riusciti? Meno male. Questo è l'importante. Il motto di Oteri è quello di tenervi tutti sul pezzo. In un certo qual modo ognuno di voi sta trovando il proprio spazio e questo è un messaggio importante alla squadra. Sì, il mister ci tiene tutti in considerazione dal primo all'ultimo. Ovviamente le possibilità ce le dà a tutti come ha dimostrato anche oggi. Chi più chi meno prima o poi entrerà e giocherà. L'importante è farsi trovare pronti. Spero di essermi fatti trovare pronti oggi. Buonasera, grazie innanzitutto per i complimenti. Ovviamente ogni partita è importante per noi per crescere e per scalare questa classifica. Ogni partita si deve vincere. Noi ci stiamo riuscendo. Speriamo andiamo avanti così. Poi vediamo, tiriamo alla fine i risultati. Sì, a me mi dispiace tantissimo di questa perdita nel Benevento Calcio perché la buonanima di Giovanni Mariani era una grandissima persona. Era sempre disponibile con ogni ragazzo. sempre presente al campo, ci seguiva in casa, in trasferta, sempre veniva con noi. Ci dava il suo supporto. Ovviamente una grandissima persona e, ripeto, mi dispiace veramente tanto. Giocatore d'Uttili. Hai dimostrato anche questa sera? Sì, io spero di aver dimostrato. L'anno scorso anche ho giocato terzino di sinistra, destra, anche quinto sulla fascia. Ma quest'anno mi sto trovando bene anche Braccetto. Mi stanno utilizzando Braccetto sia di destra che di sinistra. Non mi dispiace anche fare l'equinto perché io sono un giocatore di fascia. Spero che il mister mi veda in più ruoli e vedremo che cosa succederà. Così magari giochi di più. Ecco, speriamo. Sì, sì, sì.